Le sculture di Fiumara d'Arte diventano cornice del progetto 4. L'idea parte dal binomio arte-musica che da sempre rivela sensazioni e sentimenti. In questo caso la musica interagirà con la scultura affidando all'opera l'arduo compito di riflettere e trasmettere il calore che caratterizza il progetto pensato da Alessio Ciriminna nel 2016. Quattro voci, quattro chitarre acustiche e quattro sculture monumentali di Fiumara d'Arte di Antonio Presti sono lo storytelling dei video realizzati per la promozione del progetto 4 che si materializzerà in un disco che uscirà a maggio. Le opere scelte per il lancio del progetto sono il labirinto di Arianna, sito a Castel di Lucio, il quartiere di Librino a Catania dove Presti sta facendo un lavoro di recupero anche sociale dove è già stata inaugurata la Porta della Bellezza. Energia Mediterranea e 38esimo parallelo Piramide a Motta d'Affermo. Testimonial del progetto 4 saranno quindi quattro sculture di arte contemporanea diverse e uniche. Manfredi Tuminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada, quattro frontman, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra, veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band che oggi si sono messi assieme per dare vita a uno spettacolo ricco di virtuosismi musicali che nasce dall'accurata selezione dei brani che quattro musicisti eseguono in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale. Il primo videoclip è uscito ieri, il set è stato il labirinto di Ariana di Italo Lanfredini. Il labirinto, attraversato dai quattro chitarristi con il brano Sitting on Top of the World, è un percorso fisico ma anche interiore, un viaggio che sembra portare dentro la terra ma invece rimane sotto il cielo nel quale si sono diffuse le sonorità dei musicisti. Grazie per la visione!